e rieccoci ragazzi nuovo giorno nuova partenza oggi adesso vedrò un po perché danno brutto tempo quindi ho già prenotato l'albergo in italia ovvero in liguria a imperia starò lì due notti siccome oggi è sabato domenica danno brutto tempo quindi ripartirò lunedì che danno bel tempo almeno mi farò un paio di giorni di relax niente qua siamo al diciamolo l'hotel che ci ha ospitato questa notte più che hotel mi sembra un po più un motel perché sulle camere abbastanza molto piccole sì c'è il tutto necessario però vabbè comunque oggi partiremo non so se già posizionare sul casco l'action cam perché non c'è proprio così tanto bel tempo però si vedrà a dopo e rieccoci ragazzi in partenza come detto oggi tappa abbastanza breve sono 280 chilometri per arrivare in liguria dopo ormai sei giorni cinque giorni interi all'estero tra francia andorra e spagna oggi si rientra in italia però prima prima di arrivare in italia appunto passerò un altro stato il quarto stato del viaggio ovvero il principato di monaco ti penso faremo farò parte della costa azzurra sperando di beccare bel tempo io mi sto abituando a sfruttare le prime ore dell'alba per partire perché ho notato che comunque a parte il traffico che ce n'è poco comunque si riesce a viaggiare meglio soprattutto d'estate si riesce a sfruttare meglio anche la frescura diciamo quindi è molto più più bello andare alle prime ore dell'alba che comunque magari partire verso le 10 che fa già taldo poi oggi vabbè davano acqua a partire dalle 11 quindi ho detto va parto presto anche oggi così si fanno le cose con calma penso che anche oggi non farò l'autostrada cioè ieri l'ho fatto un pezzo oggi penso però di non farla vorrei portarvi un po di qualche pezzo in costa azzurra comunque vediamo dai ciao dopo ciao 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 E va che spettacolo, bello. Bello, come si è bello. Bestia, bestia. Buongiorno. Guardatela la mongolfiera. Avete visto la mongolfiera? La mongolfiera che volava la mongolfiera. Ma che bella la mongolfiera. Comunque fra un po' inizieremo a entrare sulla costa. St. Tropez ragazzi, ci sono passato proprio all'esterno. Che bello. Siamo sulla ruta del litorale. Ruta del litorale. La ruta del litorale. Ma sono troppe... Là si vede il mare. Si vede il mare. La cotta d'Ur. La cotta d'Ur. Ma che bello, che bello. Il golfo di St. Tropez ragazzi. Spettacolo. Quanti iote. Liote. San Tropez. La notte diventa per te. E fallo twist. Bello. Ma che strade. Ma che strade. Ma che strade. Quanto qua. Quanto grip. Quanto grip. Con l'asfalto nuovo. Col dell'aurisque. Dell'aurisque. Ma è spettacolare sta strada. Col del tastanè. Col del tastanè. Ecco qua ragazzi. Siamo ritornati. qui. Sulla costa. Sulla costa. Azzur. Un po' di. Di entroterra. Madonna. Qua dovremmo essere vicini a Nizza. e mancano poco meno di 40 chilometri. Al quarto stato della vacanza. Ovvero. Il principato di Monaco. Che bello. Il mare è sempre bello. Per ora. Per ora. Abbiamo. Per ora. Ancora una bella giornata. Non sembra. Abba idea. Di piovere. E se si riesce. Almeno. Quando arriviamo in Peria. Andiamo a fare. Un girettino. Al mare. Ragazzi. Manca. Pochissimo. A Monaco. Ecco. Tanto guardate. Che spettacolo. Che storia. qua. Ecco qua. Il principato di Monaco. Dall'alto. Ragazzi. Siamo sul tracciato. Della Formula 1. Almeno. Questo qua dovrebbe essere l'arrivo. E vedi. Di là. Si sale. Si. Tracciato. Della Formula 1. Di là. E' un po' di più facciamo l'ultima frontiera rientriamo in italia ragazzi siamo ritornati in italia ma che bello eccoci ragazzi al mare liguria spettacolo ciao 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 ciao